Sfogliamo adesso l'annuario diocesano perché ci sono alcuni aggiornamenti. Il cardinale arcivescovo ha infatti accolto la rinuncia alla guida pastorale della parrocchia di Santa Teresa di Gesù Bambino da parte di Monsignor Giuseppe Stanzani. Don Giuseppe compie in questi giorni 81 anni ed è sacerdote dal 1960. Accanto alla cura della parrocchia di Santa Teresa che segue dal 1970 ha ricoperto in diocesi numerosi incarichi tra i quali quello di vicario episcopale per il culto e la santificazione. Ora si metterà a servizio all'animazione alla casa del clero. Al suo posto il cardinale ha chiamato Don Massimo Ruggiano di 54 anni, sacerdote dal 1985 e attualmente parroco a Marano di Castenaso e Veduro. Prima nomine invece per il neo sacerdote Don Marco Malavasi che sarà vicario parrocchiale a Zola Predosa mentre Don Giancarlo Casadei sarà capellano presso la parrocchia cittadina di San Paolo di Ravone. Avvicendamento anche nella parrocchia di San Giuseppe Sposo dei Padri Capuccini dove la cura parrocchiale sarà affidata a padre Romano Mantovani in luogo di padre Livio de Bernardo.